Siamo nella diocesi di Termoli, una diocesi a noi vicina, a San Giovanni Rotondo, e Don Benito Giorgetta, che è parroco della parrocchia di San Timoteo, proprio a Termoli, è in collegamento Skype con noi per parlarci del suo ultimo libro. Buongiorno e bentrovato Don Benito. Buongiorno, buongiorno a ciascuno di voi, grazie per avermi contattato. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Io partirei subito, Don Benito, dalla copertina del libro con il suo titolo, ovviamente. Passiamo all'altra riva. Dicevamo prima che siamo ormai all'inizio della quaresima, dunque parlare di conversione, di redenzione, attraverso la storia che è raccontata in questo bellissimo libro che ricordiamo alla prefazione di Papa Francesco, ma ne parleremo ovviamente tra poco, ecco, è molto importante e credo ci calzi a pennello. Raccontaci allora un po' da dove nasce l'idea di questo libro. L'idea di questo libro nasce dal fatto che nelle mie attività pastorali ho anche quella di essere volontario nel carcere qui di Larino, vicino alla città di Termoli, sempre in provincia di Camobasso, dove da svariati anni ho modo e occasione di incontrare tante persone che sono detenute e attraverso di loro di conoscere un po' le loro storie, le loro vite, le loro ferite e così via. Occupandomi un pochettino di questo, oltre che l'attività pastorale di parroco che è prevalente, ho modo di conoscere anche persone che appartengono al mondo dei collaboratori di giustizia, che ovviamente, come si sa, sono presenti in varie città di tutta Italia sotto nomi di copertura. Comunque, avendo questa sensibilità di attenzione verso di loro, ne conosco diversi, tra cui ho conosciuto questo Luigi Bonaventura. Luigi Bonaventura è stato nel passato a Termoli per circa sette anni e mezzo, ma io non l'ho conosciuto in quella circostanza. Ho avuto modo di conoscerlo invece sulla tarda primavera e inizio estate del 2020. E così lui mi ha chiesto di colloquiare con me e di scrivere un libro. Abbiamo avuto questa idea, l'abbiamo portata a termine. Abbiamo voluto dargli questo titolo, passiamo all'altra riva, che come si sa è un'espressione evangelica di Gesù che invita i suoi amici a passare alla sponda opposta di dove si trovava in quel momento. Ma inserita nel contesto della vita di un ex mafioso, vuole indicare proprio questo, uno stimolo, un invito a cambiare vita, a cambiare stile, a risorgere anche dalle proprie ceneri, a risorgere dalle proprie morti. In effetti nella scheda di presentazione di questo libro c'è scritto, si incontra e si conosce l'esperienza del cambiamento, del passaggio all'altra riva. In ognuno di noi ci sono due sponde, ciascuno sceglie quale abitare, di quale essere protagonista. Ecco, Don Benito, Papa Francesco, per aprire anche questa finestra, ha particolarmente a cuore il mondo del carcere, perché lo ha visitato spesse volte, indicendo il giubileo straordinario della misericordia, ha anche posto un accento particolare alla situazione di questi fratelli, di queste sorelle che purtroppo tante volte sono abbandonati a loro stessi, tante volte si perde il fine educativo della pena, lo sappiamo in maniera molto precisa. Scrive il Papa nella prefazione, nessuna persona ha il diritto di guardare un'altra dall'alto in basso, se non quando deve chinarsi per aiutarlo a risollevarsi. L'unica volta che è lecito guardare dall'alto in basso è per aiutare a sollevarsi. Il mondo dei cappellani del carcere, ma di coloro i quali in qualche maniera si prestano come volontari in queste strutture è un compito difficile. Don Benito, quale situazione tu hai trovato all'interno di questa struttura, ma poi soprattutto anche nel rapportarti a questo collaboratore di giustizia di cui tu racconti nel libro? Innanzitutto per me è un onore e un privilegio. Ritengo poter avvicinare le vite ferite di tante persone che sono recluse nelle carceri. Non dimentichiamoci che il carcere purtroppo talvolta viene considerato come una discarica umana, cioè dove le persone che sono costrette a dover subire la reclusione sono affidate allo Stato, allontanate dalla società perché ritenute pericolose. Dobbiamo invece considerare che il carcere è un luogo dove pulsa la vita, il carcere è un luogo dove si sperimentano tutte le modulazioni sentimentali e affettive del panorama umano. C'è la speranza, c'è la gioia, c'è la tristezza, c'è l'angoscia, c'è l'afflizione. Ci sono storie di persone che hanno bisogno di essere ascoltate, hanno bisogno di essere avvicinate e perché no, dopo un cammino anche di conversione, di essere valorizzate. Proprio perché, come si diceva poc'anzi, in ognuno di noi c'è una doppia riva, quella del bene e quella del male. Come dice anche la parola di Dio nei primi testi, nei primi libri, in ognuno di noi la libertà di scegliere quale di queste due rive abitare. Certamente dobbiamo transitare sempre verso la riva del bene, perché questo passare all'altra riva è un passaggio quasi perpetuo, perché si va sempre di bene in bene. E il bene non è mai sazio, perché il bene sommo, come diceva appunto San Francesco, l'unico bene, il sommo bene, tutto il bene è solo Dio e noi dobbiamo avvicinarci a Lui rendendo bella, santa, giusta la nostra vita. Per riprendere le parole di Papa Francesco, come ogni seme viene fecondato, così la testimonianza di un uomo di mafia, come viene raccontata nelle pagine del tuo libro, Don Benito, può attecchire nelle coscienze e nella sensibilità di chi desidera essere operaio, di una società dove c'è spazio per i diritti della persona umana, della legalità, della dignità riconosciuta per tutti, soprattutto per i più deboli, i fragili, gli scartati, gli emarginati. Ecco, alla luce anche di quello che stiamo vivendo, Don Benito, di questa tragica situazione che è umanitaria, ma è anche civile, anche sociale, il mondo del carcere in qualche maniera può offrire anche una chiave di lettura diversa rispetto a quello che stiamo vivendo, secondo te? Secondo me sì, proprio perché, come dicevo poc'anzi, ci sono delle persone con delle storie e dobbiamo saperle ascoltare, le storie, le ferite, correggere, lo diciamo anche nel testo, lo dice anche il Papa nella sua prefazione, correggere significa reggere insieme. Quando io mi debbo atteggiare a maestro dell'altro, debbo farlo con lo stile di coerenza della mia vita e soprattutto mettendomi al suo servizio. Non basta solo condannare, è facile condannare. Dobbiamo aiutare gli altri a passare dalla riva del male alla riva del bene. Dobbiamo aiutare gli altri nelle loro debolezze, nelle loro... Ecco, purtroppo abbiamo perso Don Benito. Speriamo... Ecco, sì, ecco Don Benito, ti avevamo perso per qualche istante. Ti chiederei di ripetere il concetto, altrimenti i nostri amici a casa non riescono a seguirci. Dicevamo. Sì, chiedo scusa di questo, ma purtroppo è la tecnologia, immagino. Sì, dicevo che gli altri bisogna avvicinarli per correggerli se c'è bisogno, ma non atteggiandoci a maestri. Perché la parola correggere, come dice anche il Papa nella prefazione, viene dalla lingua latina, che significa reggere insieme a, cioè mettere le nostre spalle sotto le croci, le debolezze, le fragilità degli altri, non soltanto condannandoli, ma avvicinandoli e facendo un cammino insieme, casomai sostenendoli nelle loro debolezze, nelle loro fragilità. Quando si fa questo si avvicina a un uomo, quando si fa questo si fa salva un'anima, quando si fa questo si butta un seme di verità, di giustizia e di amore nell'abito della società di oggi. E quando c'è bisogno di questo? Non dimentichiamoci che la pace nasce dal cuore di ognuno di noi, la pace nasce da un cuore equilibrato, sereno, gioioso. Quando nel nostro cuore c'è, abitano questi doni, allora noi siamo capaci anche di testimoniarli e di donarli a coloro che abbiamo modo di incontrare nel percorso della nostra vita. Allora Don Benito, per chiudere, io vorrei dare lettura di queste ultime righe della prefazione di Papa Francesco al tuo libro e poi ti chiederei di commentarle brevemente. Nella vita si può cambiare, si deve cambiare, occorre fare un salto di qualità non rimanendo seppelliti dal male compiuto, ma risorgendo da esso, dalle proprie ceneri per respirare l'aria salubre della libertà del sentirsi amati per amare. Passiamo all'altra riva, come ha detto Gesù nel Vangelo, gli apostoli con Gesù e noi con Lui ovviamente. Sì, è molto bello questo. È molto bello perché ci fa sentire la compagnia di Gesù assieme a noi. Gesù non dà un ordine, passate all'altra riva, ma è sorta, passiamo, Lui con l'oro. Non siamo mai soli nelle battaglie della nostra vita e anche se la tempesta è in furia, dobbiamo avere la speranza che Dio è con noi. Perché il Papa dice, usando un bergoglismo, io almeno lo definisco così. Bella la parola bergoglismo, mi piace. Sì, perché è un neologismo. Il nostro Papa, siccome non parla l'italiano come parlerebbe lo spagnolo, delle volte fa delle nuove invenzioni e ha inventato anche questa terminologia. Quando si sbaglia non si deve rimanere sbagliati, cioè non si deve rimanere nell'errore. Dobbiamo tendere la mano e attenderci che qualcuno la prenda e ci accompagni all'altra riva. Bene Don Benito, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi in questi pochi minuti per provare un po' a descrivere questo bel libro la cui copertina chiedo alla regia di far rivedere. Passiamo all'altra riva di Don Benito Giorgetta con la prefazione di Papa Francesco e non lo dimentichiamo la postfazione di Don Luigi Ciotti che è anche una personalità direi importante ma è un eufemismo quello che sto utilizzando nella lotta alla mafia. Grazie Don Benito per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi.